Buongiorno amiche e amici, buona settimana, oggi lunedì 23 di marzo. Il Vangelo di oggi è tratto da Giovanni, precisamente siamo al capitolo quarto, l'episodio immediatamente successivo al grande racconto di Cana. Quindi l'inizio del capitolo quarto è dedicato a Gesù che va a questo sposalizio di Cana e lì trasforma l'acqua in vino, poi i versetti successivi raccontano che Gesù torna a Cana e compie questo prodigio che è detto secondo segno di Cana, guarigione del figlio di un funzionario del re, leggo dal 46 in poi. Quindi Giovanni 4, 46 seguenti. Gesù andò di nuovo a Cana di Galilea dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio, perché stava per morire. Gesù gli disse, se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Il funzionario del re gli disse, signore scendi prima che il mio bambino muoia. Gesù gli rispose, va, tuo figlio vive. Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva gli vennero incontro i suoi servi a dirgli, tuo figlio vive. Vole sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero, ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato. Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto, tuo figlio vive. E credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. Questo è un testo, come capita spesso in Giovanni, possiamo dire sempre. Un testo molto denso, molto complesso, che meriterebbe anche qui di fermarsi. Ma vorrei così sottolineare la portata simbolica di questo episodio. Non fermiamoci all'episodio, tra virgolette, storico. Questo funzionario, questo padre rappresenta qualcuno di molto più ampio e questo figlio rappresenta qualcuno di molto più ampio. Quindi sono la figura del funzionario, del padre e del bambino, del ragazzo guarito, sono due simboli potentissimi che andremo a scoprire. Ma innanzitutto il brano ci parla di cosa è la fede, cosa si intende per fede. O se vogliamo, cosa significa credere. Noi parliamo molto di fede, no? Si parla, sono un uomo di fede, ho fede, oppure sono un credente, credo. Ma cosa vuol dire per Giovanni, in questo caso, essere donne e uomini fede, o donne e uomini credenti? Quindi una grande catechesi è anche questo brano su questa tematica, sulla fede e sul credere. Allora partiamo magari da dire cosa fede non è, perché il brano dice anche questo. Cosa non è fede? Cosa non significa credere? Gesù dice qui, in questo brano, se voi non vedete segni e prodigi, non credete. Se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Ebbene, essere uomini e donne di fede non significa vedere, sperimentare, chiedere, magari segni e prodigi. Gesù ci sta dicendo che è possibile avere fede, credere, essere credenti, a prescindere dal vedere, costatare. E' possibile credere anche senza segni miracolosi, senza vedere segni nel cielo. E quello che si ritrova oggi, molto cristianesimo, purtroppo, è questa continua ricerca di segni, di prodigi, di miracoli, di attestazioni sensazionali, che sia in ambito mariano, che sia in ambito di malattie. E sarebbe troppo semplice e facile adesso fare un paragone in questo tempo che stiamo vivendo. Non voglio aprire questa parentesi, ci sarebbe tantissimo da dire. per delle cose che si vedono in giro, per l'Italia in particolare. Questo scadere della fede e del credere, ecco. Ma ho accennato qualcosa nel commento di ieri, ecco. Chiudo la parentesi perché ci porterebbe troppo lontano. Ora, avere fede, ci dice Giovanni, e anzitutto credere alla parola. Alla parola. Di chi? Di Gesù? Di Nazareth. Avere fede, lo dice la parola, è fidarsi. Avere fiducia. Avere fiducia, questa è fede. Affidamento ad una parola. Cioè, io mi fido che quello che tu hai detto e quello che tu hai fatto, se lo vivo, se lo incarno, mi dà la vita in pienezza. Mi fa sbocciare, mi fa rinascere, mi fa camminare. Talmente tanto da scavalcare anche la morte. Ecco, questa è fede. Questa è vera e fede. Fidarsi, fiducia. Collegato, ovviamente, al secondo momento, cioè giocarsi la vita su questa parola. Quindi, mi fido di questa parola, ma fidarsi significa adesso la vivo, concretamente, nelle mie scelte, col mio stile di vita, nel modo di giocarmi le relazioni. la fede è fidarsi, avere fiducia che se mi vivo, se vivo la vita, se vivo la mia esistenza, improntata sulla parola, su quello che Gesù ha fatto, ecco, la mia vita sboccia. Credo questo. Credo questo. purtroppo abbiamo trasformato il credere, la fede, a una dottrina. A senso intellettuale, ad un corpus dottrinale. Abbiamo identificato la fede con una professione di fede, col credo. Ma questa non è fede. almeno non fondamentalmente, cioè non a fondamento non c'è un credo, c'è una vita. Perché io posso credere intellettualmente, posso professare una fede senza che tocchi il mio stile di vita. Quindi possiamo essere perfettamente dottrinali, ma criminali nei confronti delle persone. Quindi se la fede è fidarsi nel concreto della vita, di una parola, e affidamento ad una persona, cioè a quello che lui, Gesù di Nazareth, ha detto e ha fatto, allora possiamo credere anche senza vedere prodigi ed essere felici. Lo dice Gesù ancora in Giovanni, più avanti, qui siamo a capitolo quarto, lo dirà, al capitolo venti. Beati, dice Gesù, felici, quelli che pur non avendo visto crederanno. Quindi tornando al testo, questo personaggio, questo funzionario del re crederà alla parola, non a un miracolo. questo uomo comincerà, lo vedremo dopo, a camminare, cioè comincerà a vivere da risorto, vivere in pienezza, perché creda una parola. Mettiamocelo bene in testa, non si crederà perché si è visto compiersi un prodigio, un miracolo. Ma un miracolo, il prodigio della vita, potrà realizzarsi perché vi è lo spazio della fede nel quale può manifestarsi. lo dice chiaramente Marco, siamo in Marco 6, Gesù è tra i suoi a Nazareth, ma lì non poté compiere nessun prodigio, nessun miracolo perché non c'era accoglienza, non c'era fede, non c'era ascolto, non c'era apertura alla parola e dall'ascolto e dall'incarnazione ovviamente della parola che nasce il prodigio, non il contrario. Lo ripeto perché è importante, non si crede perché si vedono miracoli, ma il prodigio della vita, il miracolo dell'esistenza potrà realizzarsi, compersi perché si è creato e si è dato lo spazio all'ascolto e si è incarnata la parola. Il vero prodigio, il vero miracolo di questo brano non è tanto il bambino che torna in salute ma è la fede del padre. Vorrei farvi notare soltanto è un testo come sempre in Giovanni costruito in maniera geniale. Bisognerebbe leggere una lingua originale, in italiano purtroppo non si può proprio mantenere tutto del greco, però cerchiamo di far notare comunque alcune costruzioni usate da Giovanni. Notiamo il cambiamento dei termini dell'uomo. Prima viene definito funzionario del re, poi viene definito uomo e poi padre. C'è un cammino. Il funzionario regio quindi identificato con una mansione, lui non ha un nome ed è definito da una mansione, ha un figlio infermo, diventa uomo quando crede alla parola. Interessante, diventa uomo quando crede alla parola. E infine diventa padre quando avrà il figlio guarito. ora dicevo che questo uomo, questo padre è una figura simbolica perché rappresenta l'umano che ha il figlio malato e avere il figlio malato significa soprattutto in contesto ebraico avere la discendenza malata e avere la discendenza malata vuol dire essere dei morti. Cioè questo uomo il funzionario del re ha il futuro malato è già un morto è già un cadavere ecco perché è simbolico è un simbolo questo personaggio quindi il figlio è un simbolo della propria vita questo malato ha anche lui una successione di termini che rappresentano un passaggio prima viene chiamato bambino dall'ufficiale qui il testo lo dice signore scendi prima che il mio bambino muoia poi i servi lo chiameranno ragazzo 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 che in greco significa proprio servo e poi diventerà figlio quando l'evangelista Giovanni lo chiamerà così e anche Gesù lo chiamerà figlio cambia la realtà il funzionario diventa uomo e padre il bambino malato lo schiavo da servo diventa libero e figlio tutto questo perché questo uomo ha cominciato a credere alla parola cioè ha cominciato credere vuol dire ha cominciato a vivere secondo la parola secondo il vangelo secondo la logica evangelica questo questo uomo è trasformato e trasforma la sua vita la sua discendenza cioè passa da essere cadavere a essere colui che cammina perché lo dirà dopo perché comincia a giocarsi la vita sulla parola quindi non ha più la logica del re funzionario del re e la logica del re cioè la logica del mondo è il potere il possesso e il successo quando comincia a abbandonare questa logica e comincia a credere alla parola di Gesù che la vita può sbocciare non perché sei potente non perché hai gli averi e non perché hai successo ma perché cominci a condividere cominci a servire cominci a prenderti cura di qualcuno ecco questo funzionario del re simbolo quando comincia a vivere in maniera evangelica ha la discendenza guarita alla vita guarita al futuro guarito cioè un futuro talmente grande che in Giovanni viene chiamata vita eterna vita in pienezza vita sbocciata cesseremo se cominciamo a vivere in maniera evangelica cesseremo di essere schiavi e cominceremo a vivere da figli anche nei rapporti con Dio c'è un verbo che torna non so se vi siete resi conto prima gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio signore scendi prima che il mio bambino muore e poi lui se stesso proprio mentre scendeva gli venne all'incontro questo scendere questo scendere è un verbo interessante anzi al versetto 47 viene usato in greco un imperativo scendi lui è un funzionario del re era abituato a usare questi termini forti scendi e Giovanni perché insiste così tanto ma perché l'amore è questo l'amore scende perché è sempre condiscendente l'amore o scende o si abbassa o si inchina verso l'altro o non è amore e potere rivestito di filantropia scendi e il fatto che questo verbo torni così tanto in Giovanni ci dovrebbe far tornare alla mente forse un altro testo un altro passaggio di Giovanni 12 24 quando Gesù dice in Giovanni se il chicco di grano non scende nella terra e non muore lì non porterà mai frutto se stiamo attenti al testo Gesù non scende Gesù sta lì è l'uomo che scende è il funzionario che scende perché Gesù è già sceso Gesù è già il chicco che è morto ed è tornato in vita piena è sbocciato è già sceso e grazie a questo ci permette di scendere e cominciare a prenderci cura il testo dice il funzionario si mise in cammino credette alla parola e si mise in cammino ecco allora cosa vuole comunicarci questo testo che il cammino verso la vita verso gli altri che verso chi sta perdendo la vita verso i poveri comincia quando cominciamo a incarnare la parola se cominciamo a credere alla parola di Gesù se cominciamo a credere al Vangelo la vita finalmente si mette in cammino altrimenti è già una vita morta una vita che sta lì è una vita morta fidarsi avere fede nella parola ci manda verso i fratelli ci fa camminare verso i fratelli e camminando verso i fratelli guariremo dalla nostra malattia mortale cioè avere il futuro malato e questo uomo chiede tuo figlio vive ma quando ha cominciato a stare meglio domanda il padre gli dissero ieri un'ora dopo mezzogiorno ma un'ora dopo mezzogiorno era il momento in cui questo uomo ha creduto alla parola sempre in senso simbolico è proprio questo se cominciamo a credere la parola il nostro bambino interiore comincia a guarire il nostro futuro la nostra vita e vi lascio a proposito di fede mi è venuto in mente mentre preparavo un po' questa questa riflessione un testo che non fa parte della tradizione cristiana è un testo appartenente al contesto ebraico siamo nell'ebraismo il testo che vi presento è di Zvi Kolitz il titolo è Yossel Rakovar si rivolge a Dio un piccolo libretto come potete vedere sono pochissime pagine con 30 pagine di introduzione di Levi Nas edito da Adelphi che cosa racconta questo piccolo testo è un gioiello è un è un è veramente un un libro preziosissimo siamo nel estate primavera tarda primavera del 43 siamo a Varsavia dopo la resistenza il ghetto di Varsavia i resistenti cominciano a crollare sono gli ultimi istanti del ghetto di Varsavia ormai è alle fiamme ormai tutte le case sono distrutte e date alle fiamme dalla follia nazista la maggior parte degli ebrei sono già trucidati e il testo racconta di un uomo un ebreo un credente che ha serragliato dentro una stanza di una casa ormai in fiamme sa che dovrà morire da lì a poco perché sente già i passi dei soldati tedeschi che vengono a prenderlo lui ancora davanti l'immagine dei figli trucidati ha perso tutti i figli ammazzati anche la moglie lui prende un foglio di carta comincia a scrivere queste pagine dove racconta la sua fede ecco vi dedico un passaggio ovviamente di questo brano a termine di questi piccoli pensieri che ho potuto lasciarvi sulla fede e sul credere e il testo comincia con la citazione di una scritta che è comparsa su un muro di un rifugio di ebrei a Colonia qui siamo a Varsavia a Colonia c'era una scritta su un muro del ghetto che diceva così credo nel sole anche quando non splende credo nell'amore anche quando non lo sento credo in Dio anche quando tace e poi comincia questo testo di Iosser Io credo a Dio al Dio di Israele anche se Egli ha fatto di tutto per spezzare la mia fede in Lui i miei rapporti con Lui non sono più quelli di un servo di fronte al padrone ma quelli di un discepolo di fronte al maestro io credo alle sue leggi io lo amo e anche se mi fossi ingannato nei Suoi confronti continuerei ad adorare la Sua legge Tu dici che noi abbiamo peccato certamente noi abbiamo peccato e ammetto anche che noi veniamo puniti per questo tuttavia vorrei che Tu Signore mi dicessi se c'è un peccato sulla terra che meriti un tale castigo il sole tramonta e io ti ringrazio Dio perché non lo vedrò più sorgere dei raggi rossi piovono dalla finestra il pezzetto di cielo che io posso vedere è fiammengiante e fluido come un flusso di sangue tra un'ora al massimo sarò riunito a mia moglie ai miei figli e ai migliori dei figli del mio popolo in un mondo migliore in cui i dubbi non domineranno più e Dio sarà l'unico sovrano muoio sereno ma non soddisfatto da uomo abbattuto ma non disperato credente ma non supplicante amando Dio ma senza dire ciecamente Amen ho seguito Dio anche quando mi ha respinto ho adempiuto il suo comando anche quando per premiare la mia osservanza egli mi colpiva io l'ho amato lo amavo e lo amo ancora anche se mi ha abbassato fino a terra mi ha torturato fino alla morte mi ha ridotto alla vergogna e alla derisione tu puoi torturarmi fino alla morte io crederò sempre in te ti amerò sempre anche se non vuoi e queste sono le mie ultime parole mio Dio di collera tu non riuscirai a far sì che io ti rinneghi tu hai tentato di tutto per farmi cadere nel dubbio ma io muoio come ho vissuto in una fede incrollabile in te l'ho dato sia il Dio dei morti il Dio della vendetta il Dio della verità e della fede che presto mostrerà nuovamente il suo volto e ne farà tremare le fondamenta con la sua voce onnipotente buona giornata